Qual è la differenza fra una porta chiusa ed un'altra aperta? Quasi nessuna. Ma la differenza sta a chi o a cosa aprirai o chiuderai la porta. Dovranno essere uguali a tutti gli altri ragazzi, trattati nella stessa identica maniera. Ragazzi smettetela, siamo in chiesa! Padre loro non sono degni di restarci ad entrare in chiesa! Sono ebrei! Siamo spacciati e se ci scoprono facciamo la stessa fine. Padre! Marchetti che succede? Sono arrivati! In cortile c'è un commissario della milizia, vi sta aspettando. Sarebbe stato molto scortese da parte mia non venire a far visita al direttore dell'istituto Pio XI. Prendi le scale esterne che salgono fino alla cupola. La scala esterna è visibile dal cortile. Lo so, è rischioso. Noi sappiamo tutto. Io sento qualcosa. Mi basterebbero una decina di uomini e ve li scoverei tutti. Comportatevi da fratelli e che ognuno di voi sia lo scudo dell'altro.